Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e con una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi presentiamo Escape Room, il gioco che devo dire è stato uno dei giochi più attesi di quest'anno e finalmente è arrivato Siamo qui per provarlo Escape Room il gioco è per una squadra da 1 a 4 giocatori per una durata massima di 60 minuti Edito in Italia dalla Cranio Creations che ancora una volta ragazzi vi ringraziamo immensamente per avercene mandato una copia in anteprima E soprattutto per aver portato in Italia un gioco del genere che sicuramente farà la felicità di tanti fan appunto dell'Escape Room Tra l'altro ce n'è anche una molto bella Livorno in via grande che prima o poi dovremo andare a fare Questo è un gioco di squadra, è un gioco cooperativo e se avete fatto un Escape Room dal vivo in questo gioco troverete tutto quello che vi è piaciuto appunto in un gioco del genere Ricordiamo che questo è un gioco usa e getta perché ci sono delle buste che dovranno essere aperte Poi ve lo spiegheremo durante il tutorial Delle buste che dovranno essere aperte per 4 Escape Room complessivo in difficoltà crescente Quindi da una più facile a una molto difficile E una volta giocate non potranno essere rigiocate Consiglio spensierato che vi diamo Formate un bel gruppo e giocatelo sempre con quel gruppo Perché una volta giocate tutte e quattro le avventure dovrete attendere magari che ci sia la possibilità di o comprare un'espansione O magari che ne so un giorno scaricare qualcosa gratis dal sito Il gioco ha anche un'app scaricabile che non serve per giocare Tutto quello di cui avete bisogno è qui nella scatola e nel bellissimo tra l'altro decoder Però potete scaricare un'app dal sito che metterà delle colonne sonore di sottofondo a tema Che tra l'altro ci staranno benissimo Ma passiamo all'unboxing Questa qui è la scatola del gioco Scatola tra l'altro molto evocativa Per chi come sicuramente tanti di voi avranno già provato un escape room dal vivo Si riconosca subito tutte quante le indicazioni che ci sono E poi tra l'altro questo gioco si divide in un fuori in 60 minuti In 4 escape room diversificate l'una dall'altra Si parte la prima che è un'evasione Un virus Un tempio azteco E un countdown nucleare per una guerra nucleare Un'ambientazione più apocalittica Il gioco è da 1 a 6 giocatori 12 anni o più Secondo me si potrebbe anche abbassare di un paio d'anni questi giochi di solito E la durata di una partita è 60 minuti Perché proprio il tempo massimo della partita Se avete fatto un escape room dal vivo appunto anche stavolta lo sapete È di 60 minuti Quindi la partita dura massimo 60 minuti Allo scattare dei 60 minuti sarà terza I componenti all'interno della scatola del gioco del board game sono 16 chiavette 4 avventure incluse all'interno della scatola in ordine crescente Ovviamente anche queste più o meno come un gioco legacy da aprire al momento giusto Quando inizierete a fare quell'avventura Il regolamento di gioco davvero 4 cavolate in croce L'avventura del countdown nucleare con tanto di valigetta Figata assurda E tra l'altro la figata pezzo in plastica disumano Il crono decoder a pile a batterie Ragazzi figata assurda Cioè a me vedendo una cosa del genere mi viene subito in mente un escape room di so L'enigmista Spettacolo ma vediamo come funziona il gioco Come vi dicevo 4 avventure divise in 4 buste Le buste sono sigillate cioè proprio le dovete strappare per aprirle Non aprite mai una busta fino a che ovviamente non ve lo chiederà il gioco e non sarete passati all'avventura successiva Quindi nel caso di evasione che è la prima avventura del gioco Aprite soltanto la busta di evasione e all'interno troverete 3 parti, 3 schede che ora vi farò vedere Apriamola Ad esempio nella prima avventura che è nella prima escape room che è evasione abbiamo la busta della parte 1 Una volta che l'avrete finita il gioco stesso vi dirà di passare alla fase 2 Passando alla fase 2 abbiamo una scheda con dei codici come vedete Non aprire prima di aver inserito il primo codice corretto nel crono decoder E la busta ovviamente della parte 2 per poi concludere con questa piccola busta della parte 3 Una volta che avrete finito tutte e tre le parti il gioco, il crono decoder vi avviserà con un suono E avrete vinto l'escape room direttamente Quindi per partire la prima cosa che dovrete fare sarà girare la busta della parte 1 Leggere tutto quanto quello che c'è scritto dietro E poi aprire la busta e tirare fuori, ora non vi faccio spoiler Aprire la busta e tirare fuori il suo contenuto e sarete pronti a giocare alla parte 1 di evasione Il gioco funziona tutto a codici e combinazioni All'interno delle buste troverete a volte mappe Perché non sarebbe un escape room senza la mappa di un posto che tra l'altro evasione ricorda molto i film di Saw O perlomeno il primo film Dovrete sempre trovare una combinazione di 4 codici Che sono queste chiavette qui E quando avrete trovato la giusta combinazione O comunque potrete fare tutti i tentativi che volete Vedete ogni chiavetta ha due lati Con una figura geometrica Però ha sempre due lati Voi non dovrete fare nient'altro che inserire queste chiavette qua dentro Tutte quante Fino a fare una combinazione di 4 Per i codici che secondo voi sono quelli giusti Quindi vi ricordiamo sempre la comunicazione nel party Perché sarà una cosa essenziale Se la combinazione sarà giusta il gioco vi avvertirà con un suono E a quel punto vorrà dire che potrete tranquillamente passare alla parte 2 Dell'avventura che state giocando Dell'escape room attuale Se invece sentirete un altro tipo di suono Il timer sul decoder scalerà di un minuto Quindi ogni errore che farete il timer scalerà sempre di un minuto All'interno della busta di evasione abbiamo delle carte int o suggerimento Che vedete per la parte 1, per la parte 2 e poi per la parte finale 3 Queste carte suggerimento verranno sbloccate a una certa tempo Timer della nostra giocata Quindi quando vedrete che la carta suggerimento Quando vedete sul crono decoder che saremo a 55 minuti Si sentirà un suono tipo E vorrà dire che in quel momento potrete girare una carta suggerimento Perché il gioco cerca da una parte un pochino di aiutarvi Se vi siete bloccati non sapete più come procedere Però assolutamente non dovete usarle se non volete voi Quindi potete anche metterle da parte e non usarle O se no le utilizzate insomma per andare avanti nel gioco Per leggere le carte suggerimento Se vedete ne giro una C'è una scritta blu Su sfondo rosso e bianco che si legge malissimo Dovrete, altra figata, farla passare Dentro questo piccolo lettore E la combinazione segreta, la frase segreta Il messaggio vi verrà svelato Quindi il suggerimento apparirà scritto qui Che secondo me è una cosa veramente molto molto carina Lo mettete così Ci passate la carta dentro E vi viene svelato il messaggio A un certo punto dentro le buste dei capitoli Vi verrà chiesto di risolvere un codice ER Lo vedrete sempre con un simbolo Che ho scritto ER Oppure vi verrà spiegato proprio dal capitolo in questione Quello cosa vuol dire? Che voi dovrete interagire col decoder Secondo la combinazione ER che vi viene chiesta Che potrebbe essere questa sequenza numerata davanti Oppure potrebbe essere una sequenza di queste Vedete negli ingranaggi Perché ci sono dei numeri e delle lettere tutto intorno Oppure potrebbe essere su quest'altro lato Una delle seguenti combinazioni Sul decoder Che voi dovrete capire quale è e risolverla Quindi in questo caso dovrete risolvere Una di queste combinazioni E poi al solito Come sempre Mettere i codici all'interno del crono decoder Per andare avanti Vi ricordo Quando sentirete un suono particolare E vedrete che il tempo rimane fermo Capirete che dovete andare avanti E aprire la seconda parte dell'avventura Il gioco è tutto questo alla fin fine Prendere le chiavette Capire qual è la giusta combinazione Guardando tutti gli elementi che avete Sia nella busta Che nella mappa del gioco E fare la vostra combinazione Se il tempo dovesse scadere Avete perso E quindi il gioco è tutto qui Molto semplice Quindi in poche parole Escape Room Il gioco è un gioco facilissimo Con un manuale Ve l'ho fatto vedere all'inizio Veramente molto piccolo Che vi potete leggere Ma io penso Forse 5 minuti sono troppi In 3 minuti È un gioco molto divertente È un gioco molto interattivo E poi ragazzi c'è La spettacolarità del gioco È questo Il crono decoder Perché questo veramente Lo fa diventare come È quello classico Che vedete in tutte le escape room Dal vivo Se ci fate caso È fatto veramente bene È tutto plasticoso Ma anche comunque Bello resistente E poi c'ha il vanopile Per cambiarci le batterie Ed è una cosa Che sicuramente Dà uno spessore ancora maggiore Al gioco Questo è un gioco Che io li nomino sempre Legacy Per quanto Lo chiamo gioco da tavolo Board game Ma non lo è Un gioco comunque interattivo Perché è il classico gioco Che potete fare Una e una sola volta Soltanto Perché una volta Finito Strappato Sapete già Cioè le combinazioni Non cambiano Sono quelle Cioè ve le ricorderete E il gioco sarà finito Però va sicuro Che alla fin fine Sono avventure Da 60 minuti Per un gruppo Da uno a quattro giocatori Che potete giocare Tutto ad un botto O magari perché no Potrete magari proporlo Farlo giocare Anche un gruppo differente Capito Per vedere come i vostri amici Riescano a risolverlo E poi una figata Se vi scaricate L'app sul telefonino Una volta che avrete Finito la giocata Come in tutte Le escape room Dal vivo Prenderete il crono decoder Farete vedere il vostro tempo Vi scatterete una foto E la potete mandare Direttamente sul sito ufficiale Che verrà caricata Sul sito ufficiale Con i migliori gruppi Magari che sono riusciti A uscire Dall'escape room Facendo dei record Magari dei tempi record Quindi se non siete Avvezzi a questi giochi Datele una possibilità Perché è veramente Un bel gioco di gruppo E il prezzo è ridotto Perché non è che costa 80 euro E poi magari ci puoi giocare Una volta sola Se invece siete amanti Delle escape room Assolutamente Non ve lo potete far mancare Io colgo l'occasione Ancora una volta Per ringraziare La Cranio Creations Per avercene mandato Una copia Ma soprattutto Per averlo portato in Italia Perché ancora una volta Ragazzi Non servono 190.000 regole Per fare un gioco Serve una buona idea E soprattutto Servono giochi Interattivi Cioè il board game Deve fondersi Con il gioco Da tavolo Con il gioco Anche per il computer La parte quindi Videoludica Perché secondo me È il futuro Dei videogiochi Infatti non vedo l'ora Che magari ci arrivi anche U-Boat Che è un altro gioco Fortemente Appunto interattivo Ragazzi che dire Questo secondo me Le vale tutti 8 su 10 Glielo do tranquillamente Non avendo mai fatto Una escape room È veramente molto bello E anzi Mi ha dato voglia Di andare a fare una dal vivo Quindi ragazzi Voto 8 su 10 Io spero che Il video vi sia piaciuto Magari fatemelo sapere Nei commenti E andate ad acquistarlo sul zito Ciao a tutti Alla prossima